Felicità, che è in via Ciccioni 6, una traverso di via Settevalle a Perugia, ospita tante associazioni all'interno della propria sede. Ognuna ha un suo ruolo, così come Adra Italia, solidarietà e aiuti concreti alle famiglie bisognose. Adra si occupa della distribuzione del cibo per quelle famiglie che particolarmente in questo momento si trovano in difficoltà. È solidarietà, è aiuto, è partecipazione a quello che può essere la vita di tutti i giorni. E in questo nostro viaggiare troviamo Marco Romis, che si occupa di quello che è Adra Italia a Perugia. E ci spiega che cosa è questa associazione, come funziona e soprattutto chi aiuta in questo momento. Allora, Adra è un'organizzazione non governativa, un'agenzia di cooperazione e soccorso a livello mondiale presente in 150 paesi. In Italia in 40 città con circa 500 volontari. E da tre anni abbiamo la sede anche in Umbria. E qui a Felicità ci occupiamo di reperire alimenti dal banco alimentare e anche da fondi propri e donazioni per poi distribuirlo a livello domiciliare, in particolar modo in questo periodo di Covid, ma se no anche facendo punto di raccolta per le persone che vengono, distribuendo pacchi alimentari ogni mese per aiutare famiglie indigenti. Attualmente sono più di 50. Mensilmente abbiamo questo appuntamento con i volontari e distribuiamo nelle varie parti dell'Umbria, in particolar modo a Perugia, ma abbiamo anche altre città sparse su tutto il territorio regionale. I pacchi alimentari vengono realizzati come? Attraverso il banco alimentare o attraverso anche offerte di privati? Principalmente i pacchi vengono realizzati con il banco alimentare e con la GEA, la Comunità Europea, attraverso delle pratiche burocratiche, perché le famiglie che fanno richiesta devono soddisfare alcuni requisiti, in particolar modo essere sotto in una certa fascia di ISE. Però ci sono anche dei fondi propri e delle donazioni, abbiamo fatto delle raccolte, chiamando appunto tanti amici e persone simpatizzanti a dare una mano. Abbiamo raccolto questo materiale, questo cibo, e l'abbiamo integrato a quelle che sono le forniture mensili. Dopodiché abbiamo distribuito alle famiglie che ne hanno bisogno. E arrivano, ahimè, mensilmente nuove richieste. Con il Covid, in particolar modo in quest'ultimo anno, abbiamo avuto un aumento dell'80-100%. È un dato allarmante, ma di cui si parla spesso, ma si dovrebbe parlare ancora di più, perché anche in Umbria se ne sente davvero il bisogno.